Sono Claudia Matini, psicologa, formatrice. In questo video condivido con te una delle strategie di cui parlo nel corso online, dinamiche di classe, inclusione ed insegnamento, per favorire processi inclusivi in classe. Includere vuol dire considerare tutti gli alunni indistintamente con le loro potenzialità, intervenendo prima sul contesto, poi sul soggetto. Quando abbiamo uno studente problematico la tendenza è a concentrare la nostra attenzione su di lui, chiedendoci come sostenerlo negli apprendimenti, nelle relazioni. Il focus di questa nostra considerazione è il singolo. Sbagliamo? No, ma dobbiamo considerare come l'esperienza di quello studente in classe, in termini di inclusione o esclusione, dipenderà non solo dagli strumenti che noi gli metteremo a disposizione in rapporto alle sue specifiche caratteristiche, ma anche da come sarà la sua relazione con i compagni, da come verrà trattato, da come tratterà. Naturalmente ogni docente osserva la sua classe e fa delle ipotesi su cosa capita tra gli studenti. Le dinamiche inclusive o di esclusione sembrano immediatamente visibili, identificabili. Ma come spiegarle? Come intervenire? Prima di decidere una qualsiasi strategia di intervento occorre passare dall'osservazione casuale a una maggiormente sistematica. Uno strumento di osservazione di cui parlo nel corso online è l'analisi dell'interazione, che ci aiuta a misurare quello che succede in classe comprendendo come funzionano le dinamiche di esclusione. Ecco alcune domande attorno alle quali organizzare l'osservazione. Chi parla? Quanto a lungo parla? Quanto frequentemente? La persona quando parla a chi si rivolge? Chi rimane escluso dalla comunicazione? Già queste poche domande possono essere d'aiuto per cominciare ad analizzare le dinamiche tra gli studenti basandoci non più e non solo sulle nostre impressioni ma su informazioni concrete raccolte in momenti diversi della vita di classe. Di questo e di molto altro parleremo nel corso online. Ti aspetto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!